Fabio Enrico, sei un rapper saviglianese che sta per tentare un'impresa non da poco, il Guinness World Record di Freestyle. Giusto, ci si prova. Avevo già detenuto quest'impresa nel lontano 2017, quando era detenuta da un freestyler spagnolo che aveva fatto 24 ore e riuscimmo a riportarlo in quel di Savigliano facendone 25 ore. In questa quarantena l'anno scorso un americano è riuscito a fare 33 ore e mezza e noi non vediamo l'ora di risfidarlo e provare a riportare il record dell'Italia. Sarà a Milano e sarà una tre giorni non semplice. Esatto, come fosse una gara di triathlon. Partirò sabato in tarda mattinata, primo pomeriggio e dovrò compiere almeno le 34 ore e quindi andremo avanti fino a mezzanotte di domenica su lunedì. Se poi ce la farò cercheremo anche di battere o estrabattere questo record e portarlo ancora di più in Italia. Come ti stai allenando? Non ci sono particolari allenamenti, semplicemente un minimo di attività fisica, sono riuscito e questa è una cosa buona che consiglio a tutti a smettere le sigarette. E in realtà non c'è un particolare allenamento, lo faccio ogni giorno un paio d'ore, questo sempre indipendentemente dal record e sarà solo lì che dovrò tenere duro e metterci tutta l'energia. E per mangiare per esempio? Allora, rispetto al primo record l'hanno reso un minimo più semplice. Prima avevo una sola pausa di un quarto d'ora che ai tempi effettuai dopo 21 ore e usai solo per andare al bagno. Adesso invece hanno fatto che ogni ora consecutiva che uno fa di rap improvvisato accumula 5 minuti di pausa. Quindi ogni ora avrei 5 minuti, ogni 2 ore 10 minuti a mia discrezione e userò una di queste pause per mangiare, bere, fare una doccia, sarei tranquillo un attimo. Quando è nato il tuo amore, la tua passione per questo genere musicale? Ero davvero piccolo, allora per la musica in generale da bambino, avevo 5 anni, neanche me lo ricordo quando ho chiesto a mio padre di suonare il pianoforte. Poi man mano questa passione è tramutata dalla musica classica, invece più nella musica rap, ai tempi delle medie, in terza media già iniziavo a scrivere qualcosa a modo di rima, a modo di testo e pian piano coltivai sempre di più questa passione dal pubblicare i dischi a fare battle di freestyle ed eccomi qui. Tutto l'altro hai già l'attivo, diversi pezzi, diversi brani che hai pubblicato? Sì, è uscito proprio settimana scorsa, il mio ultimo disco Chi ci ucciderà ed è in totale il terzo disco ormai che pubblico e penso di non fermarmi più, ormai questa strada mi ha preso e continuerò sempre. Tu guarda, sto fuori dagli standard e va bene, una presa bene, se mi richiama Telegranda, già sai come si fa, le mosse un po' come un ninja, Telegranda perché rappresentiamo tutta la provincia e sì strano, lo faccio il rap e mica in vano, chi avrebbe detto che un ragazzo un po' scapigliato sarebbe andato da Savigliano a portare il record a Milano. Io!